Grazie infinite, grazie per questa possibilità che Puglia Promozioni ha di presentarsi alla pletea pugliese e non solo, quindi un grazie davvero di cuore a Meri Rossi, a Nevio Darpa, tutto lo staff meraviglioso della BTM per questa loro grandissima prova che regalano, che donano alla nostra regione e che per noi, per la regione Puglia, per Puglia Promozioni è divenuto un appuntamento strategico alla quale siamo onorati di prendere parte e di collaborare. Oggi ritorniamo, è un benvenuto, un bentornati a parlare di prodotti turistici perché proprio l'anno scorso in questa bellissima città abbiamo lanciato questa nuova progettualità, questo percorso che prendendo spunto proprio dalla strategia, del piano strategico Puglia 365, avevamo intenzione, grazie alla spinta anche dell'assessore Loredana Capone che è in arrivo, di lavorare sui territori, di lavorare sulle reti che devono necessariamente costituirsi per prodotti turistici perché dobbiamo sempre di più qualificare la nostra offerta per andare, come dire, a targettizzare e a lavorare meglio verso i mercati di interesse specifico rispetto a quello che noi siamo. Quindi sempre meno lavorare sul brand oppure mantenendo sempre la promozione del brand Puglia ma lavorare sempre di più sui segmenti di prodotto sul quale stiamo mettendo mani e non lo stiamo facendo da solo ma un lavoro molto bello di squadra, innanzitutto io ringrazio i miei colleghi Serena Brandi, Ottavia Grassi, lo stesso Luca Scandale, il coordinatore che in prima persona coordina poi questo gruppo di lavoro che sta facendo fare, tentare questo salto di qualità alla nostra agenzia e ai nostri territori. È un lavoro che non stiamo facendo da soli perché abbiamo scelto di avere una base scientifica su cui partire, quindi una ricerca che ci desse il quadro, la cornice di riferimento sul chi siamo oggi in Puglia, su chi vorremmo essere, quindi parlare di futuro, parlare di opportunità di sviluppo anche comparando, ed è questo il lavoro che hanno fatto i nostri esperti, comparando con altre regioni, quindi un benchmark regionale e nazionale ma anche con che esistono importanti a livello internazionale. Quindi un lavoro che abbiamo fatto con Roberta Garibaldi che invito qui, grazie Roberta, un applauso, docente ed esperta del turismo enogastronomico, con Pier Felice Rosato, che non vedo, ah era dietro la colonna, il nostro esperto del prodotto sport, natura e benessere che si è concentrato, con il quale ci siamo concentrati molto sul bike, e con Fabiola Sfodera, che, ecco, dietro, un applauso, per quello che riguarda il prodotto legato all'arte, qui lasciamo l'assessore se gradite, prodotto arte e cultura. Con noi, accompagna in questo cammino, lo chiamiamo già sul palco, Giovanni Moretto, direttore commerciale di Expedia Italia, un applauso. Per raccontarvi, al termine della nostra breve relazione sui prodotti, anche come parallelamente siamo riusciti già ad agganciarci ai mercati, perché un lavoro del genere non lo facciamo soltanto per avere un'analisi che rimanga tale, ma lo facciamo poi per avviare e attivare delle strategie concrete di mercato, e quindi con Expedia c'è stato questo bellissimo sodalizio che poi tu ci racconterai. Io, sempre in attesa dell'assessore, che quindi ci raggiungerà a breve, inizierei subito con, non mi dilungo a parlare di prodotti, lascio la parola agli egregi stimatissimi esperti, inizierei proprio da te Pierfelice. Come siamo organizzati? Sul podio? Anche sì, anche comodamente lì tanto do la parola a Pierfelice Rosato, le loro brevissime relazioni ci racconteranno di quello che è accaduto in questi otto mesi di lavoro, il lavoro fatto sul campo con gli operatori, con rappresentanti istituzionali di categoria, il loro lavoro di ricerca e soprattutto nell'ultima slide, come immagino sia, ci racconteranno il lavoro che ci, lavoro forse più difficile, che tocca tutti noi, gli operatori, i territori, i sindaci, le comunità del turismo pugliese, nel lavoro dei prossimi tre mesi perché dobbiamo poi portare a casa dei risultati concreti. Prego Pierfelice, grazie. Grazie a tutti, buongiorno, io intanto cercherò di essere bravo e stare nei tempi. Allora, sport, natura, benessere è l'ambito sul quale è iniziata a lavorare, sul quale stiamo lavorando e nello specifico oggi, per questione di tempi, pur accennando anche gli altri prodotti sui quali stiamo lavorando, vorrei concentrarmi un attimo su quello che stiamo facendo sul bike. È un lavoro che abbiamo avviato da alcuni mesi e che siamo convinti che possa nel giro di alcuni mesi e quindi entro il periodo di giugno, che è la data che ci siamo dati, portare risultati concreti per un motivo molto banale. E cioè che il prodotto bike in Puglia è un prodotto che è già esistente. È un prodotto che fondamentalmente esiste, che ha potenzialità di sviluppo significative e che necessita però di essere valorizzato e messo a sistema attraverso anche l'impegno della regione di Puglia promozione. E quindi il lavoro che si sta facendo è un lavoro non di costruzione di un prodotto dal nulla, bensì di messa il sistema di valorizzazione dell'esistente, attraverso però un'esigenza forte, quella di far emergere che la Puglia è ad oggi una bike destination e può continuare ad esserlo capitalizzando ulteriormente risultati significativi. Io ho presentato qualche slide, io cercherò di essere rapidissimo perché capisco che i tempi siano estremamente stretti. Intanto diciamo un dato, il cicloturismo rappresenta un volano da un punto di vista economico significativo, io ho rappresentato alcuni dati su quello che può significare l'economia della bicicletta, da questi dati emergono due cose, uno che a livello mondiale come trend l'economia legata alla bicicletta è un'economia che ha un valore significativo, due che come Italia e come Puglia non completamente l'abbiamo percepito, soprattutto da un punto di vista dell'uso corrente della bicicletta e quindi da un punto di vista culturale non abbiamo ancora probabilmente compreso quanto la bicicletta sia un volano di sviluppo economico e c'è un lavoro culturale di diffusione di quello che significa l'economia della bicicletta importante da fare. Se io lavoro in termini invece di cicloturismo in Puglia ho una serie di riflessioni che è necessario fare, questo è quello che ad oggi abbiamo e forse è utile rappresentarlo, uno tassi di crescita elevati, dicevamo prima il turismo in bicicletta in Puglia esiste e cresce e si sviluppa, abbiamo un'elevata significatività sia in termini di pernottamenti che sviluppa cicloturistici sia in termini di valore aggiunto che determina sul territorio, abbiamo un numero crescente di tour operator locali che lavorano sul settore in maniera significativa, abbiamo un numero elevato e crescente di pacchetti, su questo dirò qualcosa più avanti, di pacchetti cicloturistici che vengono venduti in Puglia, abbiamo una varietà crescente di itinerari proposti, anche su questo qualcosa la dirò, abbiamo soprattutto un fatturato esponenzialmente in crescita per le imprese locali che stanno scegliendo di lavorare su questo settore, abbiamo cioè tutte le condizioni di base e di contesto per poter costruire un progetto di sistema che tenga, che sia fondato su basi solide. Molti sono gli alberghi pugliesi che hanno contratti di allotment con operatori specializzati e vendono camere a cicloturisti, esiste già a tutto questo. Io vi risparmio per motivi di tempo la distinzione fra le varie diverse tipologie di clientela cicloturistica e invece proverei a dire qualcosa su quello che è la domanda di cicloturismo in Puglia oggi. È una clientela in larghissima parte straniera, noi diciamo continuativamente che dobbiamo intercettare maggiori flussi di turisti stranieri, il cicloturismo è per definizione generatore di flussi internazionali di turismo, parliamo di soggetti che hanno una capacità di spesa medio alta e quindi l'impatto economico che possono generare è significativa, parliamo di soggetti che hanno un livello culturale alto e questo ci permette anche di poter vendere accanto al cicloturismo tanti altri prodotti legati per esempio al mondo della cultura in senso ampio perché sono turisti che hanno questa capacità di ricezione, soprattutto la cosa che mi interessa di più evidenziare è che sono turisti che interpretano la bicicletta come un mezzo di esplorazione del territorio, non sono turisti che vengono qui per fare gli integralisti della bicicletta, non sono sportivi in senso puro, sono persone che interpretano la bicicletta come lo strumento ideale per esplorare il territorio, vogliono conoscere la Puglia, lo vogliono fare attraverso un mezzo specifico, la bicicletta. È una domanda fortemente destagionalizzata, non vengono a luglio ed agosto per pedalare, vengono nei mesi nei quali il turista balneare non viene. Se dovessi dire in due parole è un turista straniero, destagionalizzato, fortemente attento agli aspetti della sostenibilità e della cura del territorio perché lo attraversa in bicicletta, è il turista ideale da manuale di che turista vogliamo nel nostro territorio. I tour venduti sono di durata che vanno dai 5 ai 7 giorni ma abbiamo anche tour di 10 giorni quindi attraversano la Puglia. Le principali determinanti della scelta della destinazione Puglia, se guardate, sono proprio quelle sulle quali lavoriamo per valorizzare la Puglia ogni giorno dell'anno e quindi siamo perfettamente in linea con quello che siamo capaci di offrire. Aspetto interessante, cosa viene venduto oggi in Puglia? Abbiamo il Gargano, abbiamo il Salento, abbiamo la Valle d'Itria, abbiamo Matera. Matera nell'ambito del cicloturismo è un pezzo della Puglia, lo so che può sembrare un'affermazione forte, ma è così, è un pezzo di quello che rappresenta la Puglia, fa parte della stessa offerta. Dicevamo che è un prodotto esistente, noi abbiamo fatto una mappatura di tutti i tour operator che vendono il prodotto Puglia oggi, non quello che dobbiamo fare domani, quello che c'è oggi. Ci sono circa 50 tour operator stranieri che vendono tour in Puglia oggi a stranieri, quindi qualcosa che già esiste, sono oltre 50, lavorano con le nostre strutture ricettive, lavorano qui sul territorio. Ci sono i principali tour operator nazionali, ci sono una serie di imprese locali che si stanno affacciando su questo mercato e che stanno crescendo, c'è già un sistema di offerta fortissimo. Le strutture ricettive che lavorano in ambito di cicloturismo oggi che abbiamo censito perché vendono allotment a tour operator sono circa 100, ci stiamo lavorando con ognuno di loro. Queste sono le principali direttrici con riferimento ai tour cicloturistici che vengono venduti oggi sui mercati internazionali. Ovviamente i tracciati sono tracciati attraverso vie di campagna che esistono e che sono venduti dai tour operator rispetto alle quali la Puglia deve sviluppare un rapporto di collaborazione. Come vedete Matera ha un ruolo centrale perché il tour più venduto nel mondo in bicicletta in Puglia è Matera, Alberobello, Lecce, nelle declinazioni più diverse ovviamente. Poi c'è il giro dei siti UNESCO, quindi Matera, Alberobello, Castel del Monte, c'è la direttrice adriatica, ci sono i giri che vengono venduti Gargano e Salento. Ovviamente questo non esaurisce ciò che viene venduto come cicloturismo in Puglia ma è semplicemente quello che maggiormente è presente nei cataloghi e viene venduto. Che cosa abbiamo fatto finora per riuscire a valorizzare ulteriormente tutto questo esistente su cui abbiamo lavorato? Uno, abbiamo organizzato tre incontri sul territorio con tutti gli operatori del cicloturismo. Ne abbiamo incontrati circa 200, è stato possiamo dire loro che un successo straordinario di partecipazione e di contributo. Abbiamo incontrato gli operatori che con le diverse specializzazioni lavorano su quest'ambito e abbiamo raccolto le loro opinioni, le loro idee, le loro criticità. Abbiamo iniziato a lavorare con loro in una logica di proposizione. Non è un tavolo di ascolto puro, è un tavolo di avvio di iniziative comuni da sviluppare. Mi permetto per felice 200 tra operatori, sindaci, associazioni di categoria. Tutto il mondo del cicloturismo. Abbiamo aspetto non banale firmato un protocollo di intesa con l'osservatorio Bike Economy che è l'osservatorio più importante a livello nazionale sul tema dell'economia della bicicletta, non solo del cicloturismo. Abbiamo fatto sì che potesse diventare un partner istituzionale forte per Puglia Promozione, per la Regione, per l'Asset perché ci possa aiutare ulteriormente a lavorare su questo settore. E stiamo avviando una serie di attività insieme ad Asset. Asset è l'agenzia regionale che si occupa per conto dell'assessorato ai trasporti e alla mobilità pubblica proprio di strategie del territorio sulla mobilità sostenibile ed è stato un bellissimo passaggio perché non è usuale che due agenzie non dello stesso assessorato si mettessero insieme e firmassero un protocollo strategico insieme all'osservatorio della Bike Economy per lavorare chi sull'infrastrutturazione e noi sulla promozione per un progetto che ha almeno ambizioni triennali di sviluppare questo settore. Abbiamo realizzato una mappatura dei principali percorsi cicloturistici della Puglia, questo l'abbiamo fatto cosa non banale sia in collaborazione con Asset ma anche in collaborazione con i tour operator che quei percorsi li vendono, quindi non soltanto logica pubblica di disegno di una mappa sul territorio ma di vendita di pacchetti realmente esistenti e stiamo costruendo, abbiamo costruito un sistema informativo sul cicloturismo perché mancano i dati, tutti i soggetti che abbiamo censito saranno destinatari di una breve indagine per capire esattamente quali sono i flussi cicloturistici in Puglia e questo è un patrimonio di conoscenza indispensabile da sviluppare. Che cosa stiamo facendo una volta che abbiamo fatto questi primi passi? Verso una rete di operatori del cicloturismo, tutto questo ragionamento con gli operatori ha prodotto un primo risultato non banale, si sta costituendo e allo studio la costituzione di una rete degli operatori del cicloturismo pugliesi, è un risultato significativo, significa che i principali operatori locali del cicloturismo si mettono insieme per sviluppare politiche di sistema, fino ad ora lavoravano ognuno per conto proprio, questo processo ha creato anche le basi, lo possiamo dire, da un punto di vista della consapevolezza di quello che possa significare. È ovvio che una rete di operatori del cicloturismo possa diventare nelle forme e nelle modalità che stiamo studiando un interlocutore privilegiato di Puglia Promozione della Regione per la costruzione di politiche che vadano realmente nella direzione della valorizzazione di un prodotto turistico di destinazione. Parallelamente stiamo costruendo un progetto integrato di valorizzazione del cicloturismo, tutto quello che finora è avvenuto è avvenuto grazie al lavoro che Puglia Promozione e la Regione ha fatto sulla destinazione ma non sul cicloturismo all'interno della destinazione. È tempo di lavorare su un progetto integrato del cicloturismo nella destinazione Puglia. Alcune sono gli assi di intervento che abbiamo ipotizzato. Qui siamo sul work in progress, qui siamo in quello su cui stiamo iniziando a lavorare, qui c'è spazio per ulteriormente lavorare. Uno, è tempo di portare in Puglia la principale e più importante associazione degli operatori del cicloturismo del mondo, farli vedere che cosa sia la Puglia e creare un evento in Puglia per la Puglia portando i buyer, portando tutti gli operatori e mettendo la Puglia al centro delle loro politiche e riflessioni a livello mondo. È tempo di immaginare e lo stiamo facendo insieme a Puglia Sviluppo in quella logica di collaborazione a cui faceva riferimento Rocchi l'ipotesi di una misura dedicata di agevolazione finanziaria logica aiuti alle imprese mirata sul tema del cicloturismo. La studiamo con gli operatori, la studiamo con Puglia Promozione e un riconoscimento forte della significatività che hanno da un punto di vista imprenditoriale per reggere e sviluppare il sistema di prodotto bike. Gli educational tour la regione Puglia, Puglia Promozione li fa, abbiamo bisogno di farli mirati sulle specifiche esigenze del cicloturismo, dobbiamo costruire degli educational tour che siano mirati rispetto alle loro esigenze, costruire un piano di comunicazione e promozione della Puglia Bike Destination, qui abbiamo bisogno di fare quel lavoro di sistema perché tutto ciò che il cicloturismo in Puglia sta rappresentando debba emergere nella logica di promozione e comunicazione della regione Puglia attraverso Puglia Promozione e debba emergere con riferimento alle specificità del cicloturismo e quindi si va dal lavoro sulle mappe, sui percorsi, sulle piantine ai lavori sulle strategie di comunicazione. L'ultima cosa che vorrei dire è che oltre che sul cicloturismo stiamo lavorando sempre sport, natura e benessere su altri tre prodotti. Uno è il mondo delle terme, noi sappiamo che in Puglia abbiamo quattro stabilimenti termali e su questi quattro stabilimenti termali stiamo iniziando a fare un ragionamento per una messa a sistema degli stessi attraverso la costruzione di un progetto integrato. Due, c'è un tema per me significativo che è il tema degli eventi sportivi e anche qui stiamo cercando di costruire un progetto di valorizzazione messa a sistema di quello che l'evento sportivo può lasciare sul territorio in termini di sviluppo e con la collega che si occupa di cultura, perché il tema dei cammini è un tema trasversale tra il mondo del trekking e il mondo della cultura, lavorare su un progetto di messa a sistema dei cammini. Abbiamo tanto da fare, quello che mi fa sentire relativamente sereno sul cicloturismo è che poggia su basi estremamente forti ed estremamente solide e se continueremo ad essere bravi in questo progetto di messa a sistema e in un'interlocuzione con gli operatori che è già di per sé molto forte e molto concreta, io credo che si possano raggiungere risultati significativi su questo specifico ambito. Grazie, un applauso. Credo che il lavoro di questi mesi sia stato molto ben illustrato, è un lavoro veramente concreto e ringrazio gli operatori del bike che ho visto qui, adesso ho perso un po' i punti di riferimento, per la grande collaborazione, lo spirito veramente di sviluppo comune che hanno mostrato sin da subito. Grazie per Felice e adesso, se è stato un po' troppo lungo, devo bacchettare lui e così do un messaggio trasversale ai successivi. Roberta Garibaldi, ah no, 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 pardon, Fabiola, Fabiola prima, sì sì, Fabiola sfodera per il prodotto arte e cultura, alla quale chiedo ovviamente sommessamente, umilmente, dei tempi più brevi. Allora, ho il timer, quindi vediamo un po' come va, diciamo abituata ai convegni internazionali, ti tolgono la parola nel momento in cui spori. Se volete faccio così. Proverò a stare, ad essere veloci, in realtà sono alcuni messaggi importanti, in particolar modo inizierei da ciò che abbiamo fatto, un piccolo quadro di riferimento aiuta un po' a capire che cosa significa parlare di prodotto cultura, dal momento che il prodotto cultura è indubbiamente il più ampio e il più vasto che ci possa essere, perché include elementi tangibili e intangibili, include elementi facilmente individuabili, come possono essere i beni culturali e include elementi molto complessi e articolati, come può essere l'identità di un luogo. Ho provato a fare delle slide di semplificazione. La parte di analisi che abbiamo svolto è partita proprio dalla comprensione di che cos'è il fenomeno, di che cos'è il turismo culturale, partendo dalla definizione di turismo culturale, proprio perché è un turismo in cui la componente culturale non necessariamente è la prima motivazione al viaggio, può esserlo, ma anche quando non è la prima motivazione al viaggio è comunque presente, il che significa che tutti i turisti anche in maniera accidentale possono fruire della cultura di un luogo e di solito avviene così. Ora l'aspetto forse interessante, vediamo questa slide, lo semplifica meglio, è l'evoluzione che c'è stata nell'ambito del turismo culturale. Stiamo ragionando infatti non soltanto in termini attuali ma anche in termini prospettici, da un approccio tradizionale che vede il turismo culturale basato sulla visita di un bene, questa è l'immagine di Cavallino, in cui viene richiesta al turista una competenza e anche una capacità di ascoltare e apprendere rispetto al bene culturale stesso, si è passati successivamente a forme di globalizzazione e commercializzazione della cultura. Questo è un pacchetto reale, si chiama Travel Coach, il tour operator che lo propone, nove giorni da partire da 2175 sterline, come vedete in nove giorni muovendosi in autobus, si fa Roma Matera, Alberobello, Napoli, Salerno, Sorrento e così via. Insomma si toccano più di dieci destinazioni, potete immaginare che tipo di contatto ci può essere, è un contatto estremamente superficiale, tra l'altro dal punto di vista dei turisti hanno visto il sud Italia, questa sarà la loro percezione al termine di questo viaggio. quindi è un tipo di turismo must go e must see, cioè vanno in un luogo, vedono solo quello che è famoso del luogo e poi se ne vanno. C'è un terzo tipo che è la situazione attuale, quella sulla quale noi stiamo cercando di lavorare e valorizzare, che è quello invece di un turismo culturale identitario, una forma più articolata che è quella che oggi il turista cerca, ovvero capire anche il significato o vivere, toccare con mano e provare emozioni rispetto ad un luogo, cioè comprendere il significato di quel luogo per le persone che in quel luogo vivono e di quel luogo sono espressione. Si parla infatti di esperienze identitarie, di arte, culture ed eventi. Queste sono fotografie prese dall'account We Are in Puglia, come vedete c'è un paesaggio, chiamiamolo così un borgo, l'attività di artigianato e i bacoli da seta, proprio perché oggi ciò che si ricerca non necessariamente l'aspetto tangibile, ma anche l'aspetto simbolico e l'aspetto intangibile. Questo vado velocissima, il turismo culturale è abbastanza difficile da misurare perché in quest'ottica o ci basiamo sui biglietti staccati da parte dei beni culturali, oppure ci basiamo sulle città d'arte che rappresentano il primo attrattore culturale dell'Italia. Diciamo che in linea generale si ragiona su un 40% circa, secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, del totale degli arrivi internazionali. A livello nazionale il livello di turismo culturale è importante, in particolar modo è un turismo prevalentemente straniero, quindi in Italia uno straniero su due viene per motivi culturali. Ciò che apprezza sono le città, le opere d'arte e monumenti, cibo, vino e manifestazioni culturali. Questi sono gli aspetti più significativi. Brevemente, questo è quello che stavo dicendo prima, il turismo culturale può essere la prima motivazione al viaggio oppure può essere una motivazione accidentale. Infatti ciò che è emerso dall'analisi condotta è che le persone che vengono in Puglia vivono comunque, anche se non per motivi culturali ma per esempio per andare al mare, vivono un'esperienza culturale profonda. Quindi sono in una parte, diciamo, in termini di valutazione, in termini di soddisfazione la componente culturale diventa rilevante. Ciò che abbiamo rilevato, e questa è l'analisi che abbiamo condotto sulla domanda sull'offerta attraverso dati secondari e sull'immagine, ciò che abbiamo rilevato, e così concludo la parte di analisi e passo ai prodotti, è che dal punto di vista dei turisti stranieri a seconda può essere uno su tre o uno su quattro, uno su tre se parliamo di città d'arte, che viene in Puglia per motivi culturali. È un mercato in crescita che possiamo continuare diciamo a far crescere, anzi le analisi ci hanno evidenziato come negli ultimi anni, negli ultimi tre anni, la Puglia come destinazione culturale sia aumentata in termini di notorietà, in termini di flussi, sebbene presenti ancora dei margini di miglioramento ed è per questo che ci stiamo lavorando. In particolar modo numericamente sono di più i turisti italiani, però sono più turisti da short breaks, quindi che vengono per l'weekend o per pochi giorni, 2,6 giorni la permanenza media degli stranieri, più bassa non arriva a due giorni quella degli italiani. Per quanto riguarda l'esperienza culturale è un'esperienza immersiva, come dicevo, quindi viene vissuta tutta la Puglia, toccata con mano, non il singolo bene culturale, ma l'identità e le esperienze che offre. C'è una frammentazione dell'immagine comunicata, soprattutto dagli operatori, che appare più un'immagine legata al must go e al must see, piuttosto che alla presentazione di esperienze, la proposta di esperienze. Infatti in parte coincide con quello che i turisti percepiscono. Le analisi online hanno evidenziato, abbiamo fatto un'indagine attraverso anche gli infopoint, che per i turisti la cultura in Puglia è prevalentemente castelli, come vedete, trulli, cattedrali, barocco e musei. Quindi c'è da lavorare per rafforzare un po' la conoscenza e l'immagine spontanea che i turisti hanno della regione, perché altrimenti nel top of mind resta solo Alberobello, i castelli e il barocco. Ma la Puglia sappiamo che è molto di più e sappiamo soprattutto che i turisti cercano anche altro. Quindi ciò che possiamo dire è che sicuramente il turismo culturale su cui ci dobbiamo fare riferimento, infatti abbiamo individuato tre prodotti, tre cluster, è un turismo che offre esperienze immersive in cui il bene tangibile si integra con la componente intangibile e diventa parte di questa esperienza. Vediamo i prodotti così li andiamo a concretizzare. Abbiamo individuato tre cluster, li chiamiamo cluster perché l'offerta culturale parte evidentemente dall'integrazione della componente pubblica con la componente privata. È indissolubile questo legame, non possiamo immaginare di lavorare soltanto su una dimensione. Questi sono i tre cluster individuati, quello principale è arte e cultura, il secondo cluster individuato ma non in ordine di importanza, più che altro in ordine di elencazione, è quello borghi e paesaggio e il terzo cluster è quello dei cammini e ci integriamo in questo caso con la parte natura che segue il collega. Allora cluster altre culture, io ho provato a sintetizzare, guardo intanto quanto tempo è passato perché siamo vicini alla conclusione, ho provato a sintetizzare con degli slogan, che cosa intendiamo? Allora iniziamo ad integrare tangibile e intangibile, per esempio eventi e luogo. Il processo e il significato è questo, il successo di un evento non si misura da quante persone vengono all'evento ma si misura dalla sua eredità e dall'impatto di lungo periodo. Affinché gli eventi possano essere trasformati in prodotti culturali dobbiamo lavorare sull'eredità di questi eventi. La loro notorietà, per esempio se parliamo degli eventi musicali che ci sono in Puglia, ci aiuta moltissimo in questa direzione. Immaginando le attività future che andremo a fare, andremo ad integrare, lì sono esempi, eventi e musei di Puglia sono a titolo esemplificativo e potrebbero essere il primo cluster, sotto cluster da realizzare. Andiamo ad integrare il tangibile e l'intangibile, questo avviene attraverso la co-creazione, quindi coinvolgendo tanto la parte pubblica, locale, quanto la parte privata, di esperienze culturali autentiche di filiera, cioè non possiamo promuovere il singolo bene culturale ma dobbiamo integrare questo bene in un'esperienza con una serie di servizi che lo rendono fruibile. In particolar modo andremo a costruire servizi itinerari tematici trasversali su altre culture, cioè cercheremo di integrare stimoli che saranno non soltanto visivi ma anche sensoriali e saranno culturali e più contemporanei, per esempio la foto dei baccoli da seta ne era un esempio, ne era un'espressione. L'obiettivo sarà arrivare ad una proposta di combinazioni omogenee o anche multitematiche, quindi potremo anche integrare per esempio gli eventi musicali con i poli museali attraverso laboratori creativi e attività da vivere su tutto il territorio. Sicuramente dal punto di vista promozionale, dal punto di vista delle fiere e in particolar modo nell'integrazione che avverrà anche in termini digitali, questo potrà essere un primo passo per comunicare anche all'esterno la presenza di un prodotto cultura Puglia integrato e non semplicemente come dicevo del singolo bene che resta e resta indubbiamente importante per il turismo culturale tradizionale. Il secondo cluster che abbiamo individuato è paesaggio e borghi, in questo caso parliamo di identità e di bellezza, dove la cultura diventa comportamenti, stile di vita e parliamo infatti di componenti, degli ingredienti della condizione di felicità. Vedere i luoghi, i colori con gli occhi del turista sicuramente aiuta a capire l'importanza dell'esperienza sensoriale che si può vivere visitando un piccolo borgo o guardando il paesaggio che cambia. Per questo motivo abbiamo immaginato un'integrazione per esempio di progetti importanti come quello dei borghi marinari e quello dei borghi più belli d'Italia, proprio in questa logica di andare a valorizzare questo turismo culturale identitario. Andremo quindi a proporre, immaginiamo, di individuare esperienze di borghi, paesaggio, attività, bellezze, che verranno proposte in itinerari che riguarderanno tutto il territorio. La cosa più importante del turismo, quando andiamo a parlare in termini culturali e intangibili, è integrare proprio la parte dei luoghi o dei simboli fisici con delle esperienze intangibili. Quindi andremo a collegarci alle tradizioni locali che saranno co-creati, autentiche e saranno della vita quotidiana. Una delle attività più importanti del turismo... Scusami Fabiola, oltre il tempo, salutiamo l'assessore Loredana Capone che ci raggiunge sul palco, grazie. Lascia la borsa là. Sì, sono a 11 minuti e 3. Quindi dicevo, dobbiamo abbinare laboratori o attività che siano legate alle tradizioni e alla vita quotidiana e che consentono alle persone di immergersi in questa vita quotidiana. Il turista è un cittadino temporaneo, come ama dire l'assessore, in maniera corretta ed efficace per far capire che tipo di esperienza le persone cercano. Per esempio, accanto ai laboratori creativi, uno degli aspetti che è emersa dall'analisi condotte sia dalle proposte dei tour operators che dai commenti, è l'apprezzamento della passeggiata, quello che spesso si chiama lo struscio per noi. Passeggiare in un piccolo borgo all'imbrunire e poi farsi l'aperitivo, andare a vedere il negozio, il prodotto di artigianato, è questa stessa un'esperienza culturale. Quindi in questo caso di nuovo andremo ad integrare, attraverso itinerario i proposti su tutto il territorio, sempre di filiera, il tangibile e l'intangibile. L'ultimo è quello dei cammini. Come dicevo ci integriamo con la parte naturalistica e in questo caso quando noi andiamo a parlare di attività o di proposte è ovviamente dobbiamo andare a parlare innanzitutto della costruzione del prodotto. In termini di ospitalità, ovvero di disciplinari e standard minimi, un esempio per tutti, nelle residenze o negli hotel o nei bed and breakfast, una delle cose più apprezzate dai camminatori è la merenda quando si arriva il pomeriggio e la disponibilità di una lavatrice per lavare i panni o la possibilità di avere farmacie, cerotti per i piedi e così via. Quindi disciplinari e standard minimi sono importanti affinché il prodotto sia pensato per il turista. L'aggregazione dell'offerta, quindi integrare altri servizi, non solo per esempio individuare i percorsi e le tappe ma appunto aggiungere questi servizi, nel nostro caso in particolar modo gli aspetti culturali, l'ultimo punto, le informazioni. Un inciso e ho finito. I cammini culturali comprendono anche i cammini religiosi. I cammini sono un concetto evidentemente ampio. Il camminatore puro lo fa a piedi il cammino, ma il cammino, lo stesso percorso, si può fare per motivazioni diverse e quindi si può fare anche in bicicletto a cavallo a seconda che l'elemento preponderante sia la spiritualità, la cultura oppure il divertimento e il leisure in generale. Ciò che andremo a fare sarà definire e individuare strumenti digitali per l'aggregazione, perché è vero che i percorsi sono definiti ma il proprio itinerario deve essere personalizzato con le tappe e con quello che si decide di fare e con servizi come il trasporto bagagli che è molto apprezzato e poi andremo a ragionare in termini giustamente promozionali e di branding. I cammini sicuramente sono già un brand ma lo diventeranno anche gli altri classi. L'ultimo slide era solo sull'integrazione Puglia-Matera, questa è l'ultima. Abbiamo fatto un'analisi delle offerte dei tour operator italiani e stranieri, stranieri dei principali paesi, Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti e abbiamo individuato che l'approccio attuale dell'offerta è un must go e un must see, vale a dire per esempio dei tour operator italiani principalmente si offre Matera e il sito UNESCO, per lo più Alberobello per intenderci, borghi, masserie e gravine con attività come corsi di cucina, però per esempio i corsi di cucina non sono laboratori creativi, un corso di cucina diventa un laboratorio creativo quando porto le persone a fare la spesa al mercato e poi cucinano quello che hanno comprato, invece in questo caso sono semplicemente corsi delimitati nell'ambito dello spazio dove vengono realizzati, poi qui ci sarebbe molto da dire. L'ultima cosa invece del tour operator stranieri, abbiamo visto che ci sono due tipi di pacchetti, 6-9 giorni con l'integrazione trekking e bicicletta, la cosa che ci ha particolarmente ci ha portato a ragionare su questo prodotto è che l'offerta è molto standardizzata e va solo come dicevo sul must go e il must see, quindi Lecce, Bari, Ostuni, Monopoli, Alberobello, Fasano, Savelletri, non tutte evidentemente, sono le principali località incluse in questi itinerari e poi abbiamo gli short breaks che includono Matera, Alberobello, Ostuni, Martina Franca oppure Grotte di Castellana, Polignano, Locorotondo o Lecce, quindi come vedete le principali destinazioni in termini di borghi e città, su questo c'è molto da lavorare perché possiamo trasformare questo turismo in un'esperienza culturale autentica e quindi ragionare in termini di identità e di immersione, ampliando il raggio di azione. Io mi fermo qui, grazie. Grazie Fabiola, come vedete è un segmento davvero non proprio semplice su cui lavorare, quindi io ti ho rubato il posto. Adesso la parola a Roberta Garibaldi sul turismo enogastronomico, un altro elemento iper macro perché racchiude davvero elementi più disparati della nostra regione, non siamo la valle delle mele, beati loro, che hanno davvero poco da raccontare, quindi un lavoro complesso anche per te. Prego Roberta. Sì, allora l'elemento enogastronomico in Puglia è davvero una ricchezza diffusa, profonda che può essere valorizzata al meglio. Già oggi la Puglia viene vista e riconosciuta come regione enogastronomica e quindi abbiamo visto negli anni, nelle varie ricerche, come gli italiani apprezzino e conoscano la Puglia come regione enogastronomica, gli italiani che sono un target importante perché si muovono per turismo enogastronomico principalmente in aree interne. Gli stranieri, come abbiamo già visto anche nei dati presentati da Fabiola, scegliono il nostro paese per l'elemento arte-cultura e l'elemento del cibo e quindi questo elemento così presente in questa regione rappresenta un asset estremamente rilevante di attenzione per i turisti generalisti oltre che per i turisti enogastronomici. Quindi questi sono i due target e i due obiettivi che si possono pensare di raggiungere in regione Puglia riguardanti questo asset. Il processo, il percorso che abbiamo fatto è un processo che aveva come obiettivo la preparazione delle linee operative per lo sviluppo del settore e ha visto in questo da giugno, da maggio dell'anno scorso il susseguirsi di alcune azioni. E quindi abbiamo fatto un'analisi della consistenza del trend di sviluppo a livello internazionale e nazionale, abbiamo fatto un'analisi quantitativa dell'offerta della regione Puglia con dei focus a livello provinciale, adesso vi faccio vedere una slide riassuntiva, abbiamo svolto delle analisi qualitative con incontri, interviste in profondità a focus group, abbiamo quindi fatto un'analisi della domanda andando a vedere gli italiani che hanno indicato la Puglia come destinazione enogastronomica, cosa cercano e cosa vogliono, abbiamo rilevato attraverso gli infopoint le gradimenti aspettative dei turisti presenti in Puglia che hanno svolto esperienze enogastronomiche, tutto questo è andato a confluire nelle linee di indirizzo. Qui vi un quadro di sintesi della ricchezza enogastronomica della regione che è sicuramente molto ampia e che se andiamo a vedere la situazione anche a livello nazionale vede la Puglia posizionata in questo modo. È la prima regione italiana per numero di frantoi e di aziende agricole con vite e quindi è la terza regione italiana preferita dai turisti enogastronomici dopo Sicilia e Toscana, la quarta per la totalità dei viaggiatori italiani e la quinta regione italiana per conoscenza dei prodotti e quindi viene facilmente abbinata dagli italiani all'elemento enogastronomico e sono, ormai abbiamo fatto questa ricerca più volte, abbinati principalmente l'elemento orecchiette, olio d'oliva e taralli. Quinta regione italiana per numero di prodotti ad indicazione geografica, musei legati al gusto e un numero anche interessante di micro birrifici e brew pub. Quali sono gli elementi che siamo andati a identificare per quanto riguarda le linee strategiche? Allora due asset vi presentiamo oggi di un insieme di azioni che abbiamo identificato. Allora il primo è il tema della comunicazione e il secondo è il tema di attivare che quindi l'idea di andare a creare dei bandi che possono andare a supportare le reti di imprese nel raggiungimento di maggiori servizi a favore del turismo enogastronomico. Allora la comunicazione. La comunicazione è un asset estremamente rilevante. Il turista generalista oggi vuole vivere esperienze enogastronomiche in viaggio in un numero sempre maggiore ed esperienze di tipo diversificato. Abbiamo visto che gli italiani nei viaggi negli ultimi tre anni hanno fatto almeno cinque tipologie diverse di esperienze enogastronomiche nel corso dei loro viaggi a prescindere dalla motivazione che si muovono per fare un soggiorno balneare, culturale, cammini o quant'altro. Hanno piacere di fare un diverso tipologie di esperienze. Vuol dire andare nella cantina, vuol dire andare all'evento food, nel micro birrificio, visitare un frantoio, un caseificio o quant'altro. Quindi un elemento nodale è quello di avere una mappatura delle esperienze che è possibile fare in quest'ambito e comunicarle al meglio al turista. Questo è un elemento che facilita la fruizione delle esperienze. Quindi qua vedete a livello italiano quali sono le esperienze più gradite. Dopo mangiare piatti tipici del luogo per esempio il tema dei mercati. Guardate la differenza tra esperienze fruite ed esperienze che si desidererebbe fruire. E quali sono gli elementi che hanno creato questo gap del fatto di non averle fruite? Proprio elementi di mancanza di comunicazione. E quindi questo è un elemento su cui lavorare. Quindi è responsabilità poi sia a livello locale, in tutti i vari siti, sia a livello degli operatori, di comunicare al meglio queste opportunità. E quindi è qualcosa che lancia un po' a tutti ognuno al proprio livello. Cioè l'importanza di far conoscere al meglio le esperienze. E quindi il tema del cibo di strada, ristoranti e bar storici e quant'altro. Quindi vedete tutti i vari livelli. E questi sono i temi legati al beverage. In questo caso invece questionario turisti in vacanza in Puglia. Quindi il fatto che abbiano partecipato piuttosto no ma mi piacerebbe. Vedete nel rosso chi ha partecipato a questo tipo di esperienza ma guardate anche il mi piacerebbe. Quindi dato che c'è una voglia di vivere queste esperienze, diamo informazioni su queste esperienze, oltre cerchiamo quando magari in alcuni casi può esserci anche lo spazio per creare nuove tipologie e quindi lavorare su entrambi i livelli. Quali sono gli strumenti che utilizza il turista enogastronomico? Questi sono il turista alla ricerca di esperienze enogastronomiche. Quindi il totale dei turisti e i turisti enogastronomici. Qui li vedete. Cerchiamo quindi di comunicare al miglior modo con tutti questi strumenti. Prevale come sempre il consiglio di parenti e amici che oggi è facilitato anche dal tema del digitale. L'importanza e la rilevanza che hanno i social anche nella scelta della destinazione delle esperienze. Gli giovani ormai iniziano a cercare con gli hashtag in Instagram i luoghi dove andare e le esperienze da fare in un territorio e quindi tutti questi aspetti vanno curati perché sono gli strumenti di comunicazione utilizzati. Mediamente abbiamo visto che c'è un gradimento elevato quando vengono fatte le esperienze in Puglia. Quindi vedete l'alta qualità che prevale nei vari ambiti. Questo è un dato molto positivo e quindi comunichiamo di più, riusciremo a far fruire di più perché la soddisfazione è elevata. Un secondo tema, un asse su cui poter lavorare è quello degli eventi. Cercando di dare una rilevanza anche a livello nazionale più spinta agli eventi dedicati all'enogastronomia che sono così graditi da parte dei turisti. Oggi sono un elemento di attrazione e quindi riuscire a costruire in modo più un calendario eventi che diventi attrattivo, preparato con anticipo, il fatto che così possono essere organizzati dei pacchetti e dei percorsi di visita per tempo. E il tema della promozione. Sentiremo ora un progetto concreto che è già stato portato avanti dall'innovazione di Puglia Promozione, che è quello che è stato svolto con Expedia, è stato inserito il tema enogastronomico nel progetto Travel Test, è prevista durante quest'anno il andare a fiere dedicate al tema enogastronomico, educational tour, gli stessi operatori e quindi anche voi ai territori, cercare di inserirsi nei portali che offrono esperienze, così da aumentare ancora di più il tema della promozione e il tema della presenza delle esperienze. Alcuni dati abbiamo analizzato via Atomusement, Airbnb e Foodie, abbiamo cercato di vedere quante esperienze enogastronomiche relativi alla Puglia fossero presenti e di quale tipologia. Qui vedete i dati e quindi relativi a tutte le diverse tipologie, quindi c'è già una buona presenza ma può sicuramente essere incrementata. Qui è la presenza della Puglia all'interno dell'offerta degli intermediari. Mi ero messa il timer, infatti ho quasi finito. Abbiamo analizzato i tour operator enogastronomici presenti alle fiere, ai workshop dedicati al turismo enogastronomico. Vedete che la Puglia è la terza regione presente nell'offerta di questi tour operator, quindi è un segno ancora concreto di quanto interessi la Puglia come regione enogastronomica. Quindi c'è già una buona presenza, con un'azione di sistema, si può arrivare ad integrare ancora di più. Grazie. Grazie Roberta. Una Puglia enogastronomica che comunque già lavora e per questo ringraziamo, non smetteremo mai di ringraziare i nostri operatori dell'agricoltura, i nostri vignaioli che da tanti anni già lavorano con tour operatori stranieri. Quindi anche qui c'è da lavorare per creare sistemi, per creare aiuti alle imprese attraverso bandi, cosa che faremo ovviamente nell'ambito della cultura e nel bike come già diceva Pierfelice. Ma la bellezza e anche la concretezza della nostra opera si vede anche che durante questo cammino di ricerca e di lavoro sui territori si innestano dei progetti poi reali, concreti, importanti e imponenti come un grande player del mondiale dell'intermediazione turistica come Expedia può fare. Attraverso questo sodalizio con la regione Puglia, con Puglia Promozione in particolare, con l'ufficio comunicazione che è coordinato dalla nostra collega Irenella Sardone, con un progetto di valorizzazione, di promozione delle strutture ricettive dei territori pugliesi che ha come tema proprio quello del cibo, proprio quello dei piatti pugliesi. Quindi è una scelta sicuramente importante che avete fatto come immagine perché credo che dopo i gatti, se non sbaglio non sono un esperto di Instagram, i piatti sono quegli elementi più fotografati e più virali, quindi avete colpito nel segno e adesso Giovanni Moretto che è direttore commerciale Italia di Expedia ci racconta di questo progetto, di questo sodalizio e forse ci potrà dare anche qualche numero che davvero impressiona e sarà sicuramente pane per i denti dei nostri operatori. Prego Giovanni. Perfetto, grazie mille, grazie per l'invito, grazie soprattutto ai colleghi che mi hanno preceduto perché mi hanno fornito un sacco di assist e rendono il mio compito molto più semplice. Il mio scopo oggi è soprattutto quello di presentare appunto questo progetto che Rocky già stava introducendo e che è una campagna di promozione del territorio della Puglia basata sull'enogastronomia. Diciamo che arrivo appunto con molto piacere dopo questi interventi perché seguo un po' il processo seguito finora. Il primo punto fondamentale è quello di definire quali sono le eccellenze del prodotto che vogliamo promuovere, andare a definire un piano strategico e poi questo piano strategico va implementato, va reso concreto fino a creare una campagna di comunicazione e molto importante di collegare questa campagna di comunicazione con la parte più concreta, commerciale, di vendita vera e propria del territorio. Quindi avremo preparato un rapido video che vi commento finché va, questo lo conoscete forse al sito di Expedia partendo dall'home page ma si può arrivare anche dai canali social, da affiliati, da molti altri, si arriva a una parte ispirazionale, si clicca sulla Puglia e si arriva a questa pagina dedicata, potete già accedere se andate su expedia.puglia.expedia.com scusate, arrivate a questa pagina dove potete creare il vostro menu. Quindi partiamo con gli antipasti, in questo caso la scelta, li avete visti, ce ne sono parecchi, in questo caso è stato sui crudi di pesce e ogni piatto è collegato al territorio e vedete c'è un continuo rimando dalla parte enogastronomica alla parte territoriale che può essere sia paesaggistica che culturale per andare non solo a far percepire al cliente dove sarebbe nel caso di una scelta di un viaggio ma proprio l'esperienza a 360 gradi che avrebbe nel momento in cui si trovasse in questo territorio. Questa è la prima parte, c'è tutto il claim, diciamo che il tema di questa campagna è Puglia Travel Flavor, quindi il sapore del tuo viaggio in Puglia. Si continua, in questo caso siamo arrivati al primo, alla portata principale, siamo alle mitiche orecchiette dei cimi di rapa, in questo caso c'è un'altra parte del territorio, siamo nella zona dell'Alta Murgia e anche qui c'è un continuo rimando molto ispirazionale, quindi qui siamo nella prima parte se vogliamo della fase decisionale del potenziale viaggiatore, quindi perché dovrei andare in questa destinazione, quali sarebbero le esperienze che potrei avere in questo tipo di destinazione e quindi qui si crea il secondo, ovviamente il sistema tiene traccia delle scelte del viaggiatore fino ad arrivare al dolce, in questo caso giochiamo assolutamente in casa oggi con l'eccellenza locale. Alla fine vi viene creato un itinerario, vedete quindi le aree che questo cliente specifico aveva scelto, c'è un continuo rimando, lo vedete magari un po' in piccolo, fra sempre la parte enogastronomica e la parte territoriale, in questo caso ci sono queste tre aree che questo cliente nella scelta ha utilizzato e una volta che questo itinerario viene creato può essere scaricato, può essere condiviso sia con i propri amici sia attraverso tutti i social che poi rimandano ovviamente a questa pagina e si può arrivare, proseguendo da questa parte che ripeto è quella più di comunicazione e quasi di ispirazione del cliente, si arriva invece c'è la parte se vogliamo un po' più concreta, book now, lo vedete lì sotto, quindi alla parte della prenotazione e in base alle scelte che sono state fatte possono essere prenotate le varie componenti del viaggio. Dico componenti e magari ci torno fra un secondo, lo vedete lì in alto perché ci sono tutte le componenti, ci sono gli hotel, c'è il volo più hotel e ci sono anche le attività da svolgere in loco, magari ci torno fra un secondo alla fine del video. Quindi in questo caso vengono fatte tutte le scelte, si può andare a prenotare e qui si ritorna direttamente all'home page. Aggiungo veramente due parole rispetto al video che è super rapido ma spero sia stato in grado di darvi un'idea del tipo di lavoro e di collaborazione che c'è stata tra Xperia Group e Puglia Promozione e la Regione Puglia. Quando ho nominato che ci sono tutte le componenti del prodotto, questo si sposa molto bene con la nostra azienda, Xperia Group, rientra nella categoria delle OTA, Online Travel Agency e in questo caso punto l'attenzione sulla A, sull'agency, sull'agenzia, perché il nostro lavoro è stato inizialmente, ed è stato molto fruttuoso con Puglia Promozione e con la Regione Puglia, ma poi una volta concretizzata la prima parte si è rivolta al territorio e dico il territorio a 360 gradi, con tutte le componenti turistiche, non solo quella ricettiva che è probabilmente quella principale anche per il nostro focus, ma anche per tutte le attività che possono essere svolte e abbiamo promosso con gli attori locali il fatto che durante questo periodo avrebbero avuto accesso a una domanda incrementale e una richiesta incrementale dei clienti e conseguentemente di rendere il loro prodotto particolarmente attrattivo durante questa campagna. La campagna è indirizzata soprattutto a cinque nazioni, Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera, Germania e Polonia, scelto ovviamente in collaborazione con Regione Puglia sulla base del piano strategico, stimiamo di avere circa 30 milioni di impression che possono essere... E dico 30 milioni, questo è un numero che volevo sottolineare. E dico 30 milioni di impression soprattutto in questi paesi e ovviamente avendo a disposizione questa extra domanda che è stata generata grazie alla campagna di marketing, di comunicazione e di ispirazione, ovviamente è importante che in quel momento la destinazione e i prodotti turistici siano nella loro migliore forma possibile. Aggiungo un ultimo punto, sempre di sinergia se vogliamo tra Expedia Group e questo tipo di campagna, è stato appena detto tutto, non sto a rispiegare il perché dell'enogastronomia, è stato appena spiegato in maniera molto migliore di quanto potrei fare io, ma aggiungo l'importanza dell'enogastronomia per il turista internazionale, ovviamente l'enogastronomia per l'Italia in generale, per la Regione Puglia in particolare, è uno dei criteri di sogno quasi della destinazione e il nostro gruppo porta sulla destinazione quasi due terzi di clienti non italiani internazionale. Quindi in questo modo riusciamo veramente a mettere assieme una serie di punti di forza, l'internazionalità e la combinazione dei vari prodotti turistici di Expedia Group, le eccellenze enogastronomiche e territoriali della Regione, combinate con un miglioramento del prodotto di tutti i servizi turistici e speriamo veramente che questo nelle prossime settimane, la campagna è live da poche settimane, ma ripeto la potete vedere se vi collegate ora col cellulare, ma speriamo fra poche settimane di avere dei risultati da poter condividere, ma i primi segnali sono più che positivi e sono sicuro che saranno anche gli altri. Grazie a tutti. Grazie, grazie Giovanni Moretto e grazie Expedia, lo dico io perché loro non lo possono dire, questa stima di 30 milioni probabilmente è già stata rivista e corretta in sviluppo, increscendo perché i dati di questo primo mese hanno fatto sbalzare in avanti, lo dico a Emily che mi sta guardando malissimo, lo devo dire, sta funzionando, stanno rispondendo e stanno prenotando, va bene? Un applauso a Expedia e grazie per questa bellissima prova di forza che stiamo facendo insieme. Io voglio fare un piccolo fuori programma prima di cedere finalmente la parola all'assessore, non per le conclusioni perché l'assessore Capone non fa mai le conclusioni, fa la strategia, quindi non le chiamiamo conclusioni perché creiamo delle aspettative false. Io mi emoziona a dirlo ma vedo qui gli amici di Abil Festa alla quale chiedo di fare un grandissimo applauso perché loro sono una start up, una nuova associazione, la vicepresidente e ieri proprio li abbiamo incontrati con l'assessore, loro stanno lavorando per l'accessibilità vera, reale dei corridoi concreti, un'assistenza diretta che permette a tutti, tutti, con un accompagnamento diretto, quindi in autonomia, senza parenti e familiari, di accedere agli eventi, agli incontri, alla notte della Taranta con cui già lavorano e il nostro impegno, su volontà dell'assessore, è di diffondere il più possibile in tutta la Puglia, questo che deve essere la normalità, non una cosa straordinaria da vantare e raccontare sul palco. Un applauso a voi e mi raccomando, Puglia accessibile che deve essere, fra un po' dovremmo toglierlo l'aggettivo perché deve essere appunto una cosa, come dire, ed è plano. Grazie, buon lavoro, grazie a voi. Allora, assessore, la parola a lei per aiutarci come sempre a trovare la rotta e anche a salutare questo bellissimo sodalizio con la BTM perché questo è l'ultimo dei tre incontri di Puglia promozione durante la giornata dedicata ai prodotti, poi seguirà, lo dico per la Roberta Garibaldi, per chi volesse approfondire proprio il report nazionale sul turismo gastronomico verso le 11.30, ma forse 12, ci sarà di nuovo Roberta che approfondirà i dati del suo report, quindi a lei le conclusioni e la strategia e tutto quanto di bello ci vuole dire. Un applauso per l'assessore. Intanto, buongiorno a tutti. Oggi, non so se, insomma, con un certo dispiacere o con un respiro di sollievo per tutti gli organizzatori che hanno avuto un grandissimo da fare in questo periodo, si chiude questa fiera ed è una giornata piena di argomenti assolutamente interessanti, quindi io ho visto l'attenzione con la quale avete seguito questo panel e sono davvero contenta che questo sia accaduto. Puglia promozione che ha lavorato tantissimo per queste iniziative, ma che sta lavorando tantissimo a fianco del territorio, a fianco degli operatori, ha potuto mostrare oggi con gli esperti che stanno coadiuvando la nostra agenzia quanto stiamo lavorando sul prodotto. Io credo che questo mio intervento, che può portare veramente poco in aggiunta a quanto già è stato detto ed è stato detto così appropriatamente, questo intervento, diciamo, serva, possa servire più che alle conclusioni, vedete come mi prende in giro Rocky Malatesta all'inizio, non riesco a stare chiusa all'interno, diciamo, di una piccola gabbia di lavoro. Questo mio intervento possa, come dire, fare con voi un po' la sintesi di quello che ci si apre da qui in avanti, cioè che cosa dobbiamo fare insieme, in che cosa può aiutare ancora la Regione Puglia promozione e che cosa invece ci aspettiamo da voi. Non è una cosa di poco conto, anche questa, che cosa ci aspettiamo da voi, perché il sistema non si poggi solo su qualcuno, ma perché ognuno facendo la sua parte realizza meglio poi l'obiettivo complessivo. E mi piace che sia qui presente questa bella associazione che si occupa di accessibilità perché far fare la vacanza a tutti e fare sentire ciascuno libero è per noi davvero un obiettivo. Cioè sapere che il Salento e la Puglia sono accoglienti perché c'è qualcuno che si dedica a questa accoglienza e pensa non al turismo, ma pensa a quella persona che sta entrando, quella persona, i suoi desideri, i suoi bisogni, beh questo davvero significa Puglia accogliente. Quindi su questo noi dobbiamo continuare a lavorare e farlo insieme a chi si attrezza per farcelo fare meglio è davvero un presupposto di migliore qualità al quale teniamo. Ora, che cosa è emerso oggi? È emerso un grandissimo passo in avanti della strategia di Puglia Promozione della Regione Puglia, ma della strategia di tutto il sistema turistico che punta al prodotto. Punta a mostrare la Puglia non solo con le immagini, ma con l'organizzazione. Perché dietro le immagini occorre che noi riusciamo ad essere sempre più organizzati. Se vediamo che il successo possono avere le foto su Instagram di un bel piatto, con un piccolo racconto intrigante rispetto a quel piatto, ci rendiamo immediatamente conto del livello di attenzione che c'è dietro la gastronomia e dietro l'enogastronomia. Il punto è che cosa facciamo noi per realizzare una strategia finalizzata a far venire le persone proprio per gustare quel piatto. Non basta mettere l'immagine su Instagram, siamo d'accordo? We are in Puglia, basta andare su Instagram sull'account per rendersi conto di quante bellissime immagini di piatti. Ma ad un certo momento ci siamo resi conto dietro quella storia che viene raccontata. Come dobbiamo organizzarci noi per aumentare i flussi turistici che vengono anche per l'enogastronomia? Dove sono comunicati itinerari enogastronomici? Dove sono indicate le cantine dove si può gustare il vino? Dove è spiegato il vino? Chi spiega il vino? Come facciamo a dire ai turisti? Se vieni in Puglia potrai gustare il vino. Gli dobbiamo dire in quali giorni? Gli dobbiamo dire dove? Gli dobbiamo dire quanto costa? Sì, sanno. Gli dobbiamo spiegare le proprietà di quel vino. Con quali piatti si abbina? Lo stesso vale per i piatti. Vale per tutto ciò che è caratteristico della Puglia. Bene, questo è il lavoro che dobbiamo fare. Lo abbiamo fatto? No, non l'abbiamo ancora fatto. Ci sono delle eccellenze che si propongono. Ci sono delle cantine che fanno già un'attività di marketing finalizzata a questo risultato. Ma non è il prodotto. Non siamo organizzati tutti insieme per farlo. e non c'è un'attività di promozione che unisce le cantine. E per questo che con Puglia promozione vogliamo accompagnare il percorso che tutti insieme gli operatori devono fare, magari legando le cantine ai ristoranti, i produttori ai distributori, legandoci anche alle fiere per promuovere tutto questo. E questo è il percorso che stiamo cercando di fare, che dobbiamo fare sempre meglio insieme a voi in quest'anno per poter meritare a BTM dell'anno prossimo un risultato che dica, come quest'anno possiamo dire, più per il turismo gastronomico, più una percentuale per il turismo gastronomico. È la stessa cosa che dobbiamo fare per il turismo culturale. Bellissimi monumenti. Quanti sono i visitatori e che cosa ci si fa dentro? Già quando bellissimi monumenti, punto, quanti sono i visitatori? Già lì cominciamo a soffrire. 250.000 visitatori per Castel del Monte ci soddisfano? Io non credo. E qui non è la stessa cosa? Quanti sono i visitatori? Però dietro dobbiamo porci il problema. Ma che contenuti noi offriamo e come li promuoviamo? Allora stiamo lavorando in questi anni esattamente su questo, sull'organizzazione dei contenuti all'interno dei contenitori, per far vivere meglio i cittadini prima di tutto, ma anche per far sì che questi monumenti siano visitati. Ma io so che non vi stupisco se dico che questa sfida è una sfida immane. Se vi dico che per poter promuovere Natale in Puglia abbiamo dovuto fare le telefonate a ciascuno degli operatori che pure avevano avuto il finanziamento dalla regione per realizzare quelle iniziative, perché le inserissero sul nostro portale e perché quindi ci consentissero di promuovere meglio come un unico itinerario culturale. Questa sfida la dobbiamo superare lavorandoci molto, lavorando insieme e avendo innanzitutto consapevolezza di sé, consapevolezza di quello che abbiamo, dell'immenso patrimonio che abbiamo, che non è soltanto un patrimonio materiale, ma è anche un patrimonio immateriale, il patrimonio del talento, del talento di chi organizza, delle imprese culturali che si occupano di eventi, delle imprese culturali che si occupano invece proprio della organizzazione e della comunicazione. È un patrimonio enorme. Metterlo a frutto significa realizzare meglio il prodotto. Andremo all'ITB di Berlino, il 6 e il 7, in modo diverso rispetto al passato. Abbiamo impiegato molto, molto lavoro, molto lavoro di relazione, ma sarà la stessa cosa per le prossime fiere in cui promuoviamo all'estero i nostri prodotti, anche con riguardo al cicloturismo, avete sentito, e con riguardo al prodotto culturale e al prodotto enogastronomico. All'ITB noi presenteremo Vieni in Puglia perché? Perché ci sono i festival del cinema, quindi hai la possibilità, ti piace il cinema? Vieni in Puglia. Dalla Bifest, al festival del cinema europeo che si terrà qui, al festival del cinema francese, sempre qui, al festival del cinema del reale, a Corigliano, al festival off, a Otranto, ci sono iniziative che mettono insieme i film. La maggior parte dei film che sono stati presentati al festival del cinema francese sono stati premiati nei vari festival che sono stati fatti a livello internazionale, alcuni di loro con premi eccezionali. E così sono bellissime le altre rassegne. Quindi vale la pena, se noi riusciamo a comunicarci così, noi possiamo comunicare la Puglia con le sue iniziative culturali e quindi stimolare le presenze in virtù del prodotto. Se noi riusciamo a costruire le passeggiate nei borghi promosse con i servizi legati, noi riusciamo a creare delle reti che hanno un incremento di attività notevole, che poi alla fine è quello che vogliamo. E lo stesso vale per il cicloturismo. Con i tour operator ci stiamo già attrezzando perché potenzino la vendita del prodotto cicloturismo in Puglia, che richiede che le strutture ricettive siano attrezzate per l'accoglienza, che le strutture ricettive possano contare su velo stazioni. Non basta venire in bicicletta. Sono state dette delle frasi assolutamente interessanti prima, sono affermazioni che non sono di principio. La quotidianità di chi viene va rispettata. Se uno viene per fare il cammino ma non ha dei luoghi dove poi poter provvedere ai bisogni, come quello semplice della lavatrice, vuol dire che non siamo attrezzati per i cammini. Non basta dire che vogliamo il turismo lento. Dobbiamo essere attrezzati per quel tipo di accoglienza. E sempre di più, quanto più noi diciamo che vogliamo far fare le esperienze ai turisti, tanto più dobbiamo dare i servizi connessi alle esperienze. E voi ci dovete aiutare. Perché noi abbiamo pensato, per esempio, di lavorare con Espidia e di avere questo bel risultato che avete sentito. Ma tutto quello che promuoviamo tramite Espidia dovrà essere poi rilevato sul territorio da chi viene con i servizi di accoglienza che meritano quel tipo di promozione che noi facciamo. E se diciamo che vogliamo un turismo sostenibile e destagionalizzato vuol dire che dobbiamo dare quei servizi a un turismo sempre più esigente. Più puntiamo sulla qualità, più puntiamo sul lusso, migliori dovranno essere i servizi che noi eroghiamo. E non è solo la regione protagonista, né Puglia promozione. Ogni operatore è protagonista di questo risultato. Per cui se noi condividiamo che quello deve essere il risultato, avere una Puglia di qualità su tutti i prodotti turistici che individuiamo, allora noi possiamo presentarci davvero ai mercati dicendo che troveranno esattamente quello che noi stiamo promuovendo. Voglio chiudere facendo riferimento a un dato. Tutto quello che noi stiamo dicendo, se lo condividiamo, ed è questa la mia gioia, questa è la mia soddisfazione. Se noi lo condividiamo ha dei risultati immediati, notevolmente superiore rispetto ai risultati che avevamo programmato e alle nostre aspettative. Volete sapere che cosa è successo sulla destagionalizzazione? Nel nostro piano strategico che abbiamo fatto all'inizio del 2016 sostanzialmente, programmato già alla fine del 2015, noi abbiamo detto destagionalizzazione e internazionalizzazione. Nel 2011 eravamo al 15% di turismo internazionale. Nel 2015 eravamo al quasi 20%. Sapete quanto siamo adesso? A più del 25%. Questo vuol dire che nei due anni di attività del piano strategico, noi attraverso le azioni che abbiamo fatto sui voli, attraverso il lavoro degli operatori che anche venendo alle fiere hanno promosso se stessi in maniera legata ai mercati target che noi volevamo raggiungere. Attraverso i comuni che finalmente si sono pensati anche nelle stagioni diverse da quelle balneari, prendendo consapevolezza del proprio patrimonio e quindi sapendo che dovevano investire sull'arte e sulla cultura. Attraverso tutto questo, quindi attraverso il lavoro di squadra, noi siamo cresciuti praticamente del 41,8% in tre anni. Io credo che questi risultati che vengono attraverso questo lavoro, noi li possiamo spendere come possibilità ulteriore per il futuro. Noi abbiamo la possibilità di crescere e crescere bene. Lo dobbiamo fare sapendo che anche per la destagionalizzazione, lavorare sull'enogastronomia, lavorare sul paesaggio e sul turismo lento, lavorare sulla cultura significa essere aperti tutto l'anno. Quindi significa offrire possibilità di lavoro tutto l'anno. Perché nessuno credo che si pensi rispetto al proprio lavoro impegnato soltanto per due mesi. È evidente che se vogliamo che le brave professionalità, quelle che si stanno formando negli alberghieri o nelle università, rimangano qui da noi, dobbiamo investire tutto l'anno. Diversamente se ne andranno in luoghi dove potranno lavorare tutto l'anno. Quindi questo significa anche puntare sul lavoro. Questo lavoro di squadra è un lavoro possibile. Se siamo riusciti in tre anni a crescere così, se siamo riusciti nel 2018 ad avere ad aprile, maggio e giugno una crescita, sempre prevalente del turismo internazionale, del 25,6% rispetto al 2017, beh allora vuol dire che si può destagionalizzare. Ma questa storia dell'impegno di Puglia promozione anche con il Puglia 365 che ha consentito gli eventi nelle città non durerà all'infinito. Perché i fondi europei, come sapete, tra l'altro l'Europa non ha ancora approvato il nuovo regolamento, quindi a differenza di quello che abbiamo potuto fare nel 2015, ora non possiamo anticipare le attività dopo 2020, e beh allora se Puglia di Puglia promozione non potrà utilizzare sempre la stessa mole di risorse a favore del territorio garantite dalla Regione, dobbiamo pensare che ciascun operatore, ciascun comune deve pensare alla prospettiva dopo 2020, fin da ora, con attività che siano possibili, sostenibili. Questo vuol dire che immaginare le attività richiede programmazione, non per il giorno dopo, ma richiede programmazione per tutto il futuro. Per due anni, per tre anni, ma richiede una programmazione che Puglia promozione potrà portare in giro per il mondo, invitando i turisti a venire qui sapendo già quello che dovranno fare. Credo che questa storia la stiamo scrivendo con tanta passione, con tanto entusiasmo, con tanto sacrificio, ma la stiamo scrivendo insieme e la Puglia comincia ad essere qualcosa di straordinariamente appetibile. Se è vero che prima il New York Times e poi Forbes ci mettono tra le destinazioni più ambite che ci siano al mondo. Una regione che fino al 1900 non aveva un'università. Ieri abbiamo fatto l'inaugurazione dell'anno accademico. È stato spettacolare, siamo rimasti così, a sentire i rettori che venivano dalla Sardegna. È 1660. Conosciamo Bologna o le altre università italiane. È sembrato impressionante però che nello stesso Sud la Puglia così di recente abbia investito sulle attività formative. Bene, tutto si sta costruendo nel corso di questo tempo. Questo però è il nostro di tempo e quindi questo è il tempo in cui noi dobbiamo dedicarci al massimo per far sì che la Puglia non sia soltanto una regione turisticamente rilevante, ma che sia una regione così ospitale che mantiene nel tempo la qualità della sua accoglienza. Per questo abbiamo bisogno di voi. Quindi in bocca al lupo, buon lavoro e grazie a BTM per questa organizzazione. Grazie Assessore. Grazie mille per queste parole di fiducia e di ottimismo che non devono mai mancare nel lavoro di chiunque, non solo in quello del turismo. Bene, io non posso che adesso salutare, abbiamo iniziato tardi, però siamo rimasti nei tempi. Vero, Meri? Non puoi bacchettarci. Ringrazio Giovanni Moretto di Expedia. Un applauso. Roberto, Roberta Garibaldi, Pier Felice Rosato, Fabio Lasfodera e ringraziandoli anche perché siamo da tre giorni qui a lavorare con gli operatori e questo è il momento conclusivo, non siamo qui solo per una conferenza, ma era importante comunicarvi le nostre relazioni, nei nostri dati. Grazie mille a BTM, Meri, Nevio per lo straordinario lavoro che state facendo. Continuate a seguire questi paneli interessantissimi che poi tra l'altro sono tutti di prodotto, cultura, poi c'è il wedding, dimentico il wedding e il mais su cui noi apriremo dei tavoli importanti con le associazioni di categorie e con le associazioni private. Buon lavoro a noi, buon lavoro a tutti, viva la Puglia, arrivederci, grazie.